Forse è il telefono più chiacchierato delle ultime settimane ed eccolo qui già pronto che mi aspetta Xiaomi Mi Note 10 il primo telefono con una penta fotocamera di cui la principale 108 megapixel e allora grazie agli amici di Xiaomi Today riesco a raccontarvelo tutto in questa recensione completa ed eccolo qui ragazzi Xiaomi Mi Note 10 bellissimo beh quando lo guardiamo per la prima volta non possiamo non rimanere a bocca aperta davanti a tanta bellezza perché? perché è realizzato con questa cover posteriore in vetro bellissima stondata sugli angoli, riflette molto bene la luce, veramente bella da vedere penta fotocamera in verticale da 108 megapixel principale 2x12 megapixel 5x5 megapixel 20 megapixel grande angolare 2 megapixel macro tutte messe in fila con il LED flash bene, detto questo sappiate che è arrotondato anche sugli angoli quindi sembra un OnePlus 7 Pro, sembra un P30 Pro ormai si va un po' a confondere il design di questi top di gamma ma è tremendamente bello bello da vedere, bello da toccare leggermente scivoloso ma ve lo faccio vedere sotto svariate angolazioni perché ci troviamo davanti a un display Super AMOLED Full HD Plus da 6.47 pollici con 6 giga di RAM 128 giga di archiviazione non espandibile purtroppo abbiamo il carrellino della doppia nano sim qua sullo stesso rato del pulsante di accensione volume su, volume giù in alto troviamo porta di infrarossi e secondo microfono altro lato pulito mentre in basso altoparlante mono tipo C che non esce audio video e jack per le cuffie qui non abbiamo un LED di notifica ragazzi griglia bella stretta e bella larga fotocamerina frontale da 32 megapixel due tipologie di sblocco sblocco con il volto sblocco con l'impronta a display e proprio per questo display questo display always on devo raccontarvi un po' di cose innanzitutto quando riceviamo le notifiche possiamo scegliere l'animazione vari effettini di luce e la possibilità di cambiare quello che troviamo al centro dello schermo quindi cambiare il loghetto cambiare l'immagine e cambiare anche la tipologia dell'orario visualizzato uno sblocco con l'impronta che funziona molto molto bene recepisce 9 volte su 10 è preciso è veloce come lo sblocco con il volto anche se è uno sblocco di tipo 2D quindi non è performantissimo come quello di un iPhone al suo interno MIUI Global 11 quindi Android 9 a bordo aspettiamo Android 10 ma l'importante è avere l'ultima interfaccia la MIUI 11 che porta ancora migliorie ancora più fluidità ancora più un risparmio energetico adattivo per quanto riguarda l'esperienza utente possibilità oltretutto di modalità scura la dark mode che va a scurire tutto e dentro questo smartphone che pesa un bel po' 208 grammi ragazzi fate attenzione a quando lo sollevate è piuttosto pesante una batteria non rimovibile da 5.260 mAh con una ricarica fast fino a 30 watt in soldoni ragazzi in poco più di un'ora il telefono da 0 a 100 è carico ma parliamo anche del processore perché all'interno di questo medio di gamma travestito da top di gamma e vi assicuro che sembra un top di gamma gira uno snapdragon 730G che ha delle ottime prestazioni prestazioni che ricordano tantissimo quelle ottenute con un Mi 9T non siamo ovviamente sulla potenza brutta di uno snapdragon 855 qui siamo con un processore medio ma medio alto se teniamo conto che la MIUI 11 fa girare benissimo qualunque tipo di telefono e notate anche l'interfaccia com'è bella fluida come non ci siano grandi tempi di attesa e non ci siano scatti quando vado ad aprire una sezione anche la mia sezione personale vedete come sia subito accessibile senza alcun tipo di problema direi di passare alla prova ludica quindi Asphalt 9 lo mettiamo subito in landscape in orizzontale punteggi di Antutu Benchmark e Geekbench 5 belli alti mi ha convinto complimenti a questo Xiaomi Mi Note 10 vediamo un po' quanto impiega per aprire il gioco andiamo su gioca più veloce possibile avanti tutto in diretta vi faccio vedere un po' la velocità e e e aspettiamo qualche piccolo scatto inizialmente ma poi si riprende quindi un processore degno del del nome snapdragon che non ha particolari lag qui a basso se no mi tocca a parlare più forte e direi che la giocabilità è pazzesca proprio i lag se ci sono ci sono solamente all'inizio del gioco con una percentuale veramente bassa durante la gara non ho mai percepito alcun tipo di problema alcun tipo di freeze o rallentamento un processore quindi adattissimo per il gaming vediamo anche come torna velocissimamente chiude e torna subito in verticale vi ho già fatto vedere il multitasking con tutti i pulitori le scansioni le pulizie profonde accessibili con la possibilità di andare a tagliare lo schermo in due ed utilizzare due applicazioni in contemporanea ad esempio amazon e facebook una miui fantastica veloce reattivissima ormai xiaomi ha aggiornato quasi tutti i suoi dispositivi vi faccio vedere anche una shortcut interessante se io sblocco e non lascio il dito posso andare a fare una ricerca la scansione di un codice qr code e aggiungere un evento al calendario guardate come sia molto più veloce un po' tutto il sistema durata batteria quanto dura beh vi faccio vedere subito screenshot del consumo uno scarico abbastanza lineare tranne in determinate fasce orarie in cui lo spremo maggiormente il telefono totalizzando con il 5% di carica residua 6 ore e un quarto quindi dovrebbe scaricarsi intorno alle 6 ore 30 di display acceso veramente ottima l'autonomia e ascoltiamo anche la sezione musicale l'audio esce da questa cassa è bello potente ve lo faccio sentire subito alziamo a palla e andiamo ed eccolo qua un audio bello potente si sente anche leggermente vibrare nella scocca posteriore da quanto è bello potente non è ricchissimo di bassi un po' come nella tradizione di xiaomi ma mi piace nella sezione notch e barra di stato sarà possibile nascondere il notch secondo tre modalità un po' quella che ci piace maggiormente io preferisco magari il notch non mi dà alcun fastidio e mi dà la sensazione di avere un full screen rispetto magari a un taglio qua su in alto secondo me inutilizzabile brutto e troppo troppo vistoso andiamo alla sezione più importante la pentafotocamera una fotocamerona da 108 megapixel ve lo dico subito 108 megapixel puri ci sono ma manoferma e pesantezza nello scatto e nelle fotografie fotografie che arrivano fino a 20 mega quindi belle ingombranti guardate lo scatto avete visto? si è frizzato un attimo il telefono il tempo di pensare e via si perde l'attivazione dell'intelligenza artificiale che troviamo nella sezione fotografia eccola qua nella sezione fotografia l'obiettivo da 108 megapixel viene interpolato in foto da 27 megapixel quindi 4 pixel in uno per foto più luminose ma non manca ovviamente la grande angolare quindi questi 20 megapixel non manca la macro quindi la possibilità di scattare veramente vicini ad un corpo ad un soggetto la 2x e la 5x guardate come sono vicino al pupazzetto modalità 108 megapixel l'avete già vista la modalità ritratto con la possibilità di andare ad aprire o meno la lente per sfocare quello che sta dietro al soggetto modalità notte quindi presente di default la notte panorama modalità pro e per finire video ve l'ho già detto in 4k 30 frame per secondo video breve e slow motion e andiamo a vedere velocità di scatto e successivamente come scatta le fotografie anche con la selfie cam da 32 megapixel vado ad aprire la fotografia partirei proprio dai selfie ragazzi cari ragazzi partiamo dai selfie mi sono piaciuti mi ha veramente colpito soprattutto lo scontorno quello che sta dietro di me la linea marcatissima fra corpo e spazio dietro al soggetto veramente fatto bene vi faccio vedere un po' varie angolazioni partirei anche con un sacco di fotografie in varie condizioni di luce ma non solo buio giorno ma anche vicino lontano grandangolo e macro quindi guardate la bellezza guardate come scontorna guardate il dettaglio offerto da mi note 10 non mi soffermo molto sulla singola fotografia ma spero che possiate apprezzare davvero tanto il gioco di luce la messa a fuoco il bilanciamento insomma una fotografia un campo fotografico ricco di opzioni e che darà tantissime soddisfazioni a voi a tutti quelli che proveranno questo telefono appassionati secondo voi quanto abbiamo speso per portarsi a casa lui xiaomi mi note 10 servono al lancio 599 euro ma online siamo a fine anno stiamo per abbracciare il 2020 si trova intorno ai 410 euro importato dalla cina un telefono sicuramente molto originale molto particolare che gira bene in tutto soprattutto nel reparto fotografico dove xiaomi ha alzato l'asticella prima con il mi 9t ha alzato l'asticella dal punto di vista del design adesso alza ulteriormente l'asticella dal punto di vista fotografico ma l'idea di un 108 megapixel è solamente una fissazione dell'utente perché vi assicuro che non contano i numeri conta la qualità qui la qualità c'è ma 108 megapixel ovviamente è una trovata commerciale il telefono è bello gira benissimo e quindi è approvato in sostanza un mi 9t che fa delle bellissime foto è ancora più bello noi ci sentiamo al prossimo video grazie agli amici di Xiaomi Today che hanno reso possibile questa recensione se ancora non ce ne siamo fatti vi faccio tantissimi auguri di buon Natale e di buone feste buon mi note 10 a tutti e soprattutto buona tecnologia a tutti se vi è piaciuto stare in mia compagnia lasciate un bel like al video e se volete risentirmi e rivedermi su questo schermo iscrizione al canale con i relativi link per acquistare il telefono ciao